ciao a tutti ragazzi eccoci qua anche oggi con un nuovo video come vedete postazione completamente diversa una postazione un po diversa per il semplice fatto che ho deciso finalmente di fare un video che contro ogni previsione mi è stato richiesto devo dire anche piuttosto spesso molti mi chiedono in direct su instagram oppure nei commenti o magari anche su facebook mi chiedono di fargli vedere come vi preparo io per fare i video come mi trucco come mi sistemo il viso infatti come vedete adesso in faccia non ho assolutamente niente mi sono solamente lavato il viso e voglio farvi appunto vedere come mi preparo vi avviso che non sono assolutamente un make up artist non so truccare però ho pensato di fare un video tipo get ready with me appunto dove magari chiacchierare con voi e farvi vedere appunto come mi preparo per fare i video in questo caso fortunatamente mi sta reggendo ancora un pochino la bronzatura quindi andrò fare un trucco leggerissimo semplicemente voglio come sempre andare a coprirmi un po le occhiaie che in video secondo me si notano anche parecchio le sopracciglia perché come vedete ma dopo ne parleremo meglio sono veramente un disastro le mie e poi il mio solito illuminante infatti adesso non uso fondotinta quello di solito tendo usarlo d'inverno dove mi si accentuano di più i rossori dove mi si vedono un pochino di più alcune macchette quindi mi dà un po più fastidio e quello tendo giallo d'inverno però come vi ho appena detto adesso con la bronzatura farò una cosa veramente molto molto leggera iniziando subito per prima cosa io utilizzo questi correttori questi due correttori di nyx uso la colorazione 01 e 03 perché in questo caso con il colore di pelle che ho adesso li mischio insieme e poi lo vado a stendere sull'occhiaia non so quanto riuscirò ad essere professionale nello spiegarvi perché veramente io faccio tutto un po molto a caso però vi faccio vedere per prima cosa ne vado a mettere un po sulla mano e ho messo un po dello 01 adesso prendo lo 03 e lo metto anche questo un pochino così sulla mano io li mescolo perché se no mi dà l'impressione che mi resti comunque qui un pochino di grigiore prendo il mio pennello da correttore li mescolo insieme sulla mano e poi vado a stenderli sotto l'occhio se vedete che guardo da questa parte perché ho messo qui lo specchio perché dalla telecamera non riesco assolutamente a vedermi bene quindi è impossibile io lo stendo proprio su tutta l'occhiaia lo tiro anche bene in giù e passo un pochino anche qui sul naso faccio la stessa cosa anche dall'altra parte forse è meglio se mi raccolgo i capelli so che sembro deficiente ma veramente mi danno un fastidio cane poi prendo la mia spugnetta questa non è una beauty blender è una simil beauty blender ma è morbidissima veramente è fantastica uso sempre questa parte più tondeggiante e vado a sfumare tutto il correttore sinceramente io quando faccio questi video non so bene di cosa parlarvi perché mi vengono in mente a volte alcuni argomenti ma che forse preferirei tenermi per altri video un pochino più approfonditi appunto sull'argomento a proposito volevo chiedervi secondo voi se iniziassi a fare una specie di rubrica diciamo dove parlo di argomenti parlo di cose che non c'entrano assolutamente niente con il mio canale ma soprattutto in quest'ultimo periodo sto sentendo un sacco di storie da voi perché mi scrivete veramente in tanti su su instagram in direct e quindi sento tante storie tante delle vostre storie mi piacerebbe poter prendere spunto dalle vostre storie magari e parlarne un pochino di più in video perché sento molte persone molti di voi che hanno tanti problemi e non so come spiegarvi mi fate quasi sentire avendo avuto io comunque una vita abbastanza impegnativa e comunque una crescita abbastanza impegnativa ogni infanzia un po difficile così mi fate sentire quasi meno solo non so come spiegarmi mi dà l'impressione che a parlare con voi mi rendo conto che è una cosa molto comune purtroppo avere dei delle situazioni familiari abbastanza complesse e quindi insomma volevo chiedervi se per caso mi faceva piacere magari qualche video intanto vado a coprirmi queste schifezze perché ciò qui in una specie di brufolo che mi dà fastidio dicevo mi farebbe piacere magari sapere se anche a voi farebbe piacere scusate il gioco di parole magari vedere qualche video in cui parlo appunto di questi argomenti magari affronta insieme a voi alcuni argomenti che sono un pochino più pesanti un pochino meno meno frivoli meno meno giocosi ecco dopo aver fatto questo con la spugnetta un pochino sporca passo anche leggermente ma proprio leggermente sopra gli occhi perché se notate la mia palpebra un colore veramente più scuro confronto al resto del viso e questa cosa mi dà un po fastidio non voglio che diventi completamente uguale perché se no poi avrei proprio una forma completamente piatta non avrei più volumi però leggermente vado a tamponare ma solo con l'eccesso di prodotto che è rimasto sulla spugnetta vado a tamponarlo sopra gli occhi giusto per uniformare un pochino e togliere un po quel colore che mi dà un fastidio tremendo il mio naso come vedete tende ad essere rosso quindi vado un pochino anche sul naso ma proprio faccio una striscetta e con l'altra parte in questo caso con la parte quella piatta sfumo bene il correttore ma anche qui è una cosa leggerissima perché non voglio l'effetto mascherone è una cosa che veramente non sopporto con lo stesso correttore perché ovviamente non sto lì a cambiare miliardi di correttori se ho qualche discromia leggera o qualche brufoletto lo vado a coprire ma proprio leggermente e per me è anche molto semplice perché purtroppo ho un problema di dermatite e quindi tante volte mi escono delle macchiette rosse che non fanno male non fanno niente prudono solo un pochino però sono fastidiose perché sono brutte da vedere mi era stato consigliato di utilizzare il correttore verde per annullare questi rossori ma il problema è che non voglio annullare i rossori io voglio che i rossori vadano via infatti sto facendo una specie di cura che poi non è una cura perché non è una malattia semplicemente è una dermatite più che altro penso da stress da quello che ho capito dalla dermatologa quindi conta tanto ovviamente in un discorso psicologico un discorso di stress è un discorso di alimentazione e io ultimamente sto mangiando veramente malissimo quindi non posso pretendere chissà cosa aver messo il correttore prendo questo ultra mega giga pennello da cipria penso che tutti avrete già visto pennelli di questo genere e prendo questa cipria che ormai è praticamente finita questa qui è la 304 di inglot una volta utilizzavo la cipria quella trasparente ma vedevo che in video mi faceva un alone praticamente bianco ed era veramente bruttissimo che per quanto dovesse essere trasparente poi non era mai realmente trasparente e allora ho iniziato a usare questa qui che se vedete leggermente colorata è un color leggermente caldo ma proprio leggera leggera e una volta comunque sul viso non si vede e con questa vado a prenderne un pochina e vado a fissare il mio correttore perché alla fine non ho messo nient'altro se non il correttore un po anche sul naso ovviamente praticamente passo dove ho messo il correttore e lo fisso un pochino una volta fatto questo semplicemente passo subito alle sopracciglia perché come vedete purtroppo le mie sopracciglia qui all'inizio sono molto vuote nel senso che hanno veramente pochi peli soprattutto questa qui di sinistra e questa qui di sinistra purtroppo è stata colpa di un estetista da cui sono andato tanti tanti anni fa che mi faceva le sopracciglia con la cera praticamente mi metteva qui sotto la cera poi la strappava e poi me la metteva anche qui in mezzo il bello è che io qui in mezzo non ho mai avuto peli quindi non ho capito perché me la mettesse lì il problema è che ha messo la cera un pochino troppo spostata e quindi come vedete mi ha strappato un sacco di peli in più non so se si riesce a vedere che poi praticamente non sono più purtroppo ricresciuti questa parte invece è mia naturale diciamo però se vedete dal vivo non si nota tanto ma in video praticamente questa zona diventa trasparente e la stessa cosa vale per questo punto e la codina in fondo quindi per quando faccio i video per non sembrare senza pezzi di sopracciglia vado a ridisegnar mele e utilizzo questa matita per sopracciglia di madina che non si vede più un tubo vedete sicuramente qui la M di madina ma la parte dove c'era proprio scritto madina ormai l'ho già consumata perché vedete ne ho già utilizzata molta più di metà di matite per sopracciglia qualcosina ne capisco perché comunque le uso da parecchio tempo da parecchi anni e vi devo dire che con questa mi trovo molto bene tra ovviamente quelli low cost perché io cose che costano troppo non le acquisto a prescindere usandole poco non me ne faccio niente ma questa qua mi trovo molto bene perché ha un colore che secondo me si adatta molto bene ai miei peli al colore del mio pelo non va sul rosso l'aranciato cosa che quasi tutte le matite per sopracciglia fanno purtroppo e non è neanche troppo scura perché io non ho i peli scurissimi anche se magari in video sembrano neri e questa qui è la 04 ed è un color biondo cenere più che altro e mi trovo veramente molto bene di solito inizio qui dal centro a fare diciamo la parte sotto centrale dovrei anche togliere qualche peletto in più ma vabbè lo farò dopo lo faccio sia da una parte che dall'altra devo ammettere che per uno che non è abituato a truccarsi in video non è molto semplice fare le cose fatte bene guardandosi così anche perché ho tutte le luci sparate in faccia che di solito non utilizzo che mi destabilizzano un po' comunque dopo aver fatto la parte iniziale qui sotto per darmi diciamo la linea guida vado nella parte superiore e riempio tutta questa parte che vi dicevo prima dove praticamente i miei peli sono pochi e sembra esserci un buco poi faccio anche la codina che quella per me è sempre un trauma diciamo che la faccio sempre molto a caso a volte mi viene bene tipo al primo colpo a volte mi viene al primo colpo e poi comunque qua riempio la parte iniziale però cercando di star leggero senza riempire troppo perché comunque un po' quell'effetto sfumato mi piace infatti come vedete comunque questa parte resta sempre un pochino più chiara confronto al resto che è più definito una cosa che io uso molto molto poco è il pettinino che c'è dietro ma non riesco veramente molto a capire perché a volte mi aiuta a sfumare leggermente se metto troppo colore tante altre volte non capisco l'utilità di pettinare le sopracciglia perché ho visto che tanti make up artists le pettinano in su ma se io le pettino in su mi sento stupido quindi io praticamente faccio tutto solo con la punta della matita in ogni caso adesso mentre vado a fare anche l'altro sopracciglio tornando al discorso di prima mi piacerebbe veramente ho avuto veramente questa idea di diciamo creare non dico una rubrica perché non vuole essere una rubrica ma vuole essere una serie di video dove magari parlo appunto di cose di problemi o comunque di quello che succede parlo un po' di tutto parlo un po' anche di altre cose ma più che altro parlo magari del mio pensiero ecco di quello che penso delle cose che succedono che possono riguardare le bambole che possono riguardare i giocattoli o magari la musica o qualsiasi cosa mi piacerebbe un sacco perché molti di voi comunque mi parlano molti di voi mi raccontano le loro cose io apprezzo tantissimo e sono veramente contentissimo e il mio mezzo ovviamente principale per parlare con voi oltre ai messaggi è questo, è YouTube e mi piacerebbe tanto appunto iniziare questa specie di video dove parlo di quello che penso, di varie cose non so, fatemi sapere voi ad esempio vorrei anche parlarvi un giorno è che quello devo capire bene se posso oppure no delle collaborazioni tipo quella che sto facendo io con Banggood scusate se parlo un po' da deficiente ma sono concentratissimo e con queste luci sta uscendo tipo una schifezza ovviamente in questo caso il discorso della collaborazione non so quanto potervene parlare perché comunque è la mia prima collaborazione non vorrei creare casini penso possiate immaginarlo però boh mi piacerebbe fare un video dove magari parlare delle collaborazioni in generale sapere cosa ne pensate voi o magari anche perché no parlare degli altri youtuber sapere cosa ne pensate voi degli altri youtuber tante volte mi vengono in mente un sacco di idee che poi non realizzo perché penso sempre che possa poi magari stufarvi vedere un video dove parlo e dove non vi mostro invece realmente niente quindi veramente fatemelo sapere qui sotto nei commenti se vi farebbe piacere a me piacerebbe tantissimo anche perché tante volte ci sarebbero tante cose da dire io di base sono uno che parla tanto penso ve ne sarete accorti e farlo in questo modo forse potrebbe essere anche una cosa molto stimolante anche per me come persona quindi sì sul serio fatemelo sapere qui sotto intanto io cerco di finire questo sopracciglio che è orrendo bene finite o per meglio dire fatte in qualche modo le sopracciglia l'ultima cosa che faccio solitamente appunto quando non metto fondotinta è ovviamente l'illuminante sapete che io ho una fissa per l'illuminante io amo l'illuminante e infatti come vedete quello che utilizzo io che è questo qui sopra perché questa qui sotto è una terra questa qui non dico che è quasi nuova perché comunque l'ho usata parecchio ma questa la uso appunto quando metto il fondotinta perché mi fa quell'effetto di quell'effetto senza volumi quell'effetto di viso piatto e allora utilizzo un po' la terra per dare leggermente un po' di ombre ma nel caso se vi farà piacere ve lo farò vedere in un altro video magari quando appunto farò quel trucco diciamo invernale ma come vedete invece l'illuminante è veramente usatissimo lo uso tantissimo lo uso per uscire lo uso per fare video lo uso sempre ne ho anche altri tipo questi due di NYX che vi avevo già fatto vedere in un video haul che però non so se in video si vedono questo qui è un duochrome dorato e rosa diciamo quando lo si mette addosso si vede che ha riflesso rosa vediamo se riesco a farvelo vedere sulla mano questo qui dovrebbe dare l'effetto rosa spero si riesca a vedere e poi invece ho questo qua sempre di NYX però con sempre duochrome ma con un riflesso azzurro questo visto così mi sa che si nota molto di più questo qui è quello azzurro e questo è quello rosa boh forse li utilizzerò magari più avanti magari un giorno mi metterò anche io a fare il tutorial di make up non lo so di sicuro no tutorial di sicuro no perché non sono in grado intanto comunque continuo a utilizzare il mio illuminante di Inglot che adoro questo qui per fare quello super professionale adesso cerco di dirvi anche qual è il numero che utilizzo io eccolo qua il numero che utilizzo io è il 153 appunto di Inglot e vi devo dire che amo queste pallettine di Inglot perché come vedete sono magnetiche quindi lo saprete ormai già tutti se qualcuno è appassionato di make up conoscerà sicuramente Inglot sono magnetiche quindi si compra una volta la pallettina e poi questi qui sono solo refill quindi si va a ricomprare solamente questa cialdina che in un secondo si è già attaccata e non si spreca niente che è una cosa che io non sopporto perché ad esempio in questi qui ovviamente una volta che è finito l'illuminante, il prodotto o qualsiasi cosa si deve andare a buttare via tutto e si butta via anche la plastica ed è una cosa che non sopporto in questo caso invece hanno fatto questa pallettina che oltretutto secondo me è anche molto carina perché fuori ha tutte le scritte Inglot su questa plastica che poi non è plastica perché è tanto rigida sì è una plastica rigidissima semi trasparente con scritto Inglot ma soprattutto è magnetica si scorre e si stacca e si può mettere dietro si attacca dietro così non rompe le scatole in giro comunque vabbè dopo questa pubblicità di Inglot che nessuno mi ha chiesto che faccio solo perché questo mi piace veramente tanto prendo il mio pennello a ventaglio quello che avete visto che ho preso da Primark fatto a unicorno e vado a prendere così un pochino di illuminante che poi non sarà mai solo questo e comincio a metterlo qui sullo zigomo che poi per me non è mai solo lo zigomo perché tipo arrivo fino alle tempie sapete che io vivrei di illuminante non so se in camera si vede con queste luci ma l'avete sicuramente già visto ne metto ancora un po' perché per me non basta mai e cerco di sfumarlo al meglio possibile perché se no una cosa che odio è quando vedo la striscia così di illuminante mi dà fastidio mi piace molto di più vedere la sfumatura diciamo cioè il riflesso sfumato quindi cerco di sfumarlo anche se alla fine è uno di quei prodotti che si vede ma di sicuro non è un ombretto fucsia che macchia però a me piace sfumato bene faccio la stessa cosa anche dall'altra parte di qua però non avendo la luce non vedo dove lo sto mettendo ma in qualche modo ce la farò e poi le vado a mettere un pochino qui all'inizio del naso perché mi piace un sacco leggermente qui sulla bocca e un po' sulle tempie diciamo che faccio un po' come la sendina che lei nell'illuminante ci farebbe il bagno e anche io comunque mentre vado avanti a mettermi l'illuminante volevo chiedervi visto che ormai siamo a ottobre avete già qualche idea a voi di cosa fare ad halloween io stavo pensando a un paio di video da realizzare perché mi piacerebbe realizzare un paio di video per halloween un po' diversi del solito un po' particolari anche perché diciamo che di tutorial ce ne sono una marea di video di halloween ce ne sono veramente una marea cambio un attimo pennello perché con quello lì non ne viene giù come dico io e quindi stavo pensando di fare qualche video un po' diverso da quelli che faccio solitamente sul mio canale un punto come sono dimenticato dove metto anche l'illuminante è sotto il sopracciglio ovviamente però qua utilizzo il pennello più sottile e lo passo qui sotto il sopracciglio per accentuare questo arco e poi ovviamente anche qua lo sfumo lo sfumo perché non voglio robe definite comunque fatemi sapere se voi avete qualche idea cosa fate per halloween se fate qualche festa io non so ancora cosa fare effettivamente manca un mese quindi forse c'è ancora un bel po' di tempo però essendo una festa che a me di solito piace particolarmente di solito realizzavo tipo delle delle cene qui a casa mia semplicissime dove bisognava essere ovviamente tutti truccati o comunque vestiti in qualche modo strano e poi andavamo tutti al cinese a prenderci da mangiare in quelle condizioni e poi tornavamo a casa quindi per me halloween è sempre stata una cosa più diciamo tra amici tra di noi anche qui in casa senza niente di particolare però è una festa che proprio mi è sempre piaciuta non so dirvi come mai non so dirvi come mai ho questa passione per halloween però mi piace forse è perché c'è la scusa di truccarsi di divertirsi non lo so di vedersi un po' diversi di fare di trasformarsi un po' forse non so ditemi voi voi cosa fate se vi piace cosa cosa fate di solito se avete già in programma qualche festa adesso mi sciolgo i capelli perché sono ridicolo oddio non che non sia tanto più ridicolo con i capelli sciolti perché veramente non hanno una forma comunque bene o male questo è quello che faccio io quando mi preparo per fare video ripeto quello che faccio quando sono un pochino abbronzato la cosa che più utilizzo come sapete è l'illuminante perché secondo me almeno su di me mi piace tantissimo poi ovviamente quando vado per strada non metto mai il correttore di illuminante magari ne metto un po' meno forse boh a volte ne metto anche di più le sopracciglia di solito le faccio un pochino meno marcate perché comunque ripeto in video con le luci si nota molto di più dove i buchi in ogni caso questo più o meno è quello che faccio sempre fatemi sapere voi cosa ne pensate fatemi sapere se questi video dove magari mi preparo dove magari faccio altre cose come vi dicevo prima dove parlo di qualcos'altro magari possono piacere io vorrei tantissimo farne e farne sempre di più io spero che questo video vi sia piaciuto come sempre se vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi un like di iscrivervi al canale vi ricordo anche di andare a cliccare se non l'avete già fatto la campanellina a fianco al pulsante iscriviti in modo da ricevere sempre tutte le notifiche sui miei nuovi video vi ricordo anche che mi trovate sia su Instagram che su Facebook ma come sempre qui sotto nell'info box trovate tutti i link ai miei social io intanto ragazzi vi saluto vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video e ci vediamo al prossimo video